Un nuovo giocatore si è unito alla sessione. Un nuovo giocatore si è unito alla sessione. Un tratto perso. 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 Massacra. 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 Sì. 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 Un minuto al testo. Trenta secondi al testo. Chiamolo per dentro. Satti sotto se hai coraggio. Hai ottenuto il primo posto. Sei chiamolo per dentro TV. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Un giocatore ha lasciato la sessione www.mesmerism.info 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 Sì, hanno stordito. 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 Sì, hanno stordito.